Ciao a tutte e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di scarpe, in particolare di tendenze scarpe nuove nuove per l'autunno-inverno, alcune importate dalle stagioni precedenti, alcune invece che sono nuove o quantomeno si ripresentano dopo alcuni anni di calma piatta su quel fronte. La prima tendenza che andrà fortissimo questo autunno-inverno è quella dei sandali o più in generale delle scarpe ancora un pochino aperte con il plateau. Questa tendenza a dire il vero non è del tutto nuova, l'avevamo già vista nelle stagioni precedenti dove però non aveva preso veramente piede perché a parte qualche locale ultra trendy nelle grandi città la scarpa col plateau non ha fatto un vero e proprio ritorno sulle nostre strade nello street style. Quest'anno però ci riprovano riproponendoci mocassini e soprattutto anche sandali di quelli invernali quindi un pochino più chiusi da portare anche con una bella calza spessa sempre con il plateau. Io non penso di investire in questa tendenza quindi non credo di comprarmi qualcosa di nuovo ma nel mio guardaroba ho trovato queste vecchie pipto, così si chiamava questo modello, di Gucci che non avevo più utilizzato da un bel po' di tempo e che ho pensato che magari con una bella calza nera spessa possano andare. Le avevo comprate circa 20 anni fa per una particolare ricorrenza in un anno in cui naturalmente questo modello andava di moda e mi è sempre spiaciuto rivenderle perché a loro modo sono comunque un classico anche se per moltissimi anni adesso non le ho più indossate in più sono anche estremamente comode per cui chissà magari li faccio fare qualche uscita. In ogni caso se questa tendenza vi piace ne trovate davvero di bellissime trovate mocassini col tacco a plateau magari in vernice trovate i classici sandali invernali in vernice o persino in pellami come quello scamosciato che vanno molto in inverno insomma divertitevi pure perché abbinate comunque a un look altrimenti abbastanza classico non c'è niente che non vada in questo modello. Un secondo modello che andrà tantissimo questo autunno inverno che io trovo personalmente molto pratico non è che lo indossi sempre ma mi piace quello dei quissard. I quissard sono quegli stivali per intenderci che seguendo la linea della nostra gamba coprono anche leggermente almeno il ginocchio. Questo tipo di modello secondo me è soggetto a notevoli pregiudizi perché nell'immaginario di molte donne appena sentono la parola quissard scatta immediatamente l'idea di un abbinamento assolutamente sexy con una gonna cortissima. Insomma nell'immaginario di molte donne questo sembra essere l'unico modo per abbinare questi stivali. Molte inoltre sono convinti che occorra essere alte 1,80 1,85 per poterle indossare come se tutte le donne al di sotto di quella soglia avessero per forza gambe corte e tozze. In realtà io lo dico sempre lo spiego lo insegno nei miei corsi e manuali le proporzioni le belle proporzioni femminili e anche quelle proprio ideali non hanno niente a che vedere con la statura. Quindi anche una donna alta magari 1,60 1,65 può avere delle gambe proporzionalmente naturalmente lunghe e affusolate al punto giusto da potersi assolutamente permettere questo tipo di stivale. Io personalmente non lo metto non stop chiaramente ne ho un unico paio che sono questi neri che avevo preso su amazon qualche anno fa e che stanno benissimo per esempio con le lunghezze midi e maxi. Secondo me ecco abbinato delle lunghezze midi o anche maxi ma anche con una gonna diciamo poco sopra il ginocchio se abbiamo il fisico giusto perché no io non trovo ci sia niente di male con questo tipo di stivali. Tengono la gamba e i piedi belli caldi e soprattutto risolvono egregiamente l'enorme secondo me problema di trovare la calzatura giusta per certe lunghezze che vanno dal midi al maxi che non è sempre facile perché vanno ancora di gran moda queste lunghezze però non è sempre facile trovare ecco la calzatura giusta. Una terza tendenza infatto di scarpe per l'autunno e inverno sono le scarpe spesso decoltè ma anche stivaletti con la zeppa sottile. Questa devo dire una tendenza abbastanza nuova che a me personalmente per il momento non piace molto ma è sicuramente un modello abbastanza nuovo che abbiamo visto proposto in grande stile questo autunno quindi se vi piace il modello se siete alla ricerca di qualcosa di fresco e innovativo perché no guardatevi in giro perché questo modello sarà veramente di tendenza. Un'altra tendenza forte di stagione questa facilissima per quasi tutte noi perché chi è che non ne ha almeno un paio nell'armadio è quella delle decoltè. Le decoltè quest'autunno saranno davvero ovunque chiaramente si tratta di un modello classico che difficilmente passa completamente di moda. Quest'anno diciamo i modelli più attuali sono o quelli ultra minimal magari con un tacco un pochino squadrato un pochino particolare sempre di solito appunto oppure anche la punta quadrata si ripresenta anche quest'anno vanno molto anche i modelli aperti sul tallone almeno finché la stagione lo consentirà. Io per esempio ho questo modello di Chaneline bicolor che amo sempre molto anche perché hanno un tacco abbastanza basso e che indosso tantissimi in autunno soprattutto anche con le giacchine e i primi cappottini Chanel mi piace sempre molto lo trovo molto versatile e anche molto comodo. Ve lo linko anche questo qua sotto perché veramente hanno fatto un'ottima resa e le indosso sempre molto spesso le trovo molto carine. Per il resto a livello di decolleté vedremo ancora moltissimi modelli un pochino minimal ultra classici come queste consiglio veramente a tutti e lo consiglio spesso anche nei miei corsi manuali di avere almeno un paio di decolleté nude nell'armadio che riprendono un pochino il colore anche della nostra pelle perché questo aggiunge letteralmente centimetri visivamente alle nostre gambe e quindi ci fa fare una bellissima figura con tantissimi outfit sia che si tratti di pantaloni di gonne o di abiti quindi è veramente molto conveniente averne un paio bello comodo magari con un tacco medio questo credo sia un tacco 8 ma le ho anche un pochino più basse proprio se devo correre e veramente le uso tantissimo anche di queste qua sotto trovate qualche link. Quest'anno andranno moltissimo anche le decolleté decorate con elementi a catena le abbiamo già viste nelle stagioni precedenti oppure anche con borchie un altro elemento di stile che questa stagione sia nelle scarpe che nelle borse vedremo tantissimo oppure anche con altri elementi luminosi e decorativi io ho ormai da diversi anni le classiche valentino rockstad che sicuramente avrete già visto in mille versioni e le mie sono così color pan con la punta pitonata effetto pitonato e le borche dorate che in realtà legano bene con tantissime cose non le metto spessissimo per un motivo banalissimo che mi scoccio ogni volta aprire poi richiudere questi tre cinturini ci vuole qualche secondo in più e io come sapete ormai sono una donna un pochino pigra che ama la moda ma sono pigra per cui per me vanno bene tutte le soluzioni pratiche e comode ma questa è comunque quando voglia di dedicare qualche minuto di più al mio outfit le metto sia da giorno che da sera quindi questo modello che vi linko qua sotto sia nella versione diciamo originale valentino costosa ma anche un'ottima alternativa molto comoda e molto conveniente ce l'ha anche una mia amica per esempio in rosso e trovo che facciano sempre una splendida figura ve le linko appunto qua sotto un'altra tendenza infatti di scarpe autunno in verna saranno le scarpe di qualsiasi modello color tabacco il color tabacco sarà molto presente soprattutto negli accessori ma anche nell'abbigliamento e nelle scarpe trovo se che sia una punta diciamo di una tonalità in realtà neutra ma molto molto versatile che si abbina bene con tantissime cose e quindi benvenga un bel paio di scarpe color tabacco e ci sto pensando anch'io perché non ho niente neanche da mostrarvi oggi non ho niente di simile nel guardaroba un'altra tendenza fortissima di stagione e benvenga direi perché credo che tutti abbiamo già un paio o due di questa calzatura nel nostro guardaroba sono gli anfibi che si tratti della versione chelsea boot che abbiamo visto tantissimo l'anno scorso e che anch'io ho comprato in questo modello qui anche questo se lo trovo ancora ve lo linko qua sotto perché è veramente comodissimo e ha fatto una assolutamente la sua figura e li ho usati davvero tantissimo proteggono bene i piedi anche con le intemperie e persino con la neve grazie a questa suola inoltre sempre l'anno scorso avevo comprato questi di nero giardini che avete apprezzato tantissima ve l'avevo già linkata in alcuni dei miei video dello scorso inverno autunno inverno e le avete veramente comprato in tanti perché sono un modello che sono una pantofola assomigliano come concetto ai doc martens ma al confronto sono mille volte più comodi e mille volte più morbidi hanno la cerniera interna quindi è un attimo indossarle sfilarle e sono veramente comode comunque gli anfibi in tutte le loro forme anche in colori chiari come il panna il beige il tabacco appunto il cammello andranno ancora moltissimo a me manca la versione chiara ne ho già messa qualcuno in wishlist e se anche voi le state cercando ve li linko qua sotto un'ultima tendenza che andrà forte quest'autunno inverno questa abbastanza nuova almeno torna dopo alcuni anni di silenzio è quella delle galosce in gomma dei classici stivali di gomma effetto wellington questo modello andrà tantissimo quindi se avete già un paio di vecchi hunter nell'armadio tirateli fuori oppure guardatevi in giro per i nuovi modelli che sicuramente avranno qualche elemento innovativo e distintivo anche questa è una calzatura comoda in molti frangenti soprattutto se piove se nevica o c'è brutto tempo e tengono i nostri piedi assolutamente all'asciutto io non ho niente del genere per cui sicuramente mi guarderò in giro perché come modello trovo che facciano anche una bella gamba e quindi li trovo senz'altro carini e utili naturalmente accanto a tutte queste tendenze che vi ho detto adesso ce ne saranno molte altre non è che scompaiano all'improvviso non so le sneakers oppure gli stivaletti quelli anche un pochino stretti sulla caviglia che continueranno andare di moda così come gli stivali alti mille forme sia tacco basso che tacco alto che naturalmente sono un classico di stagione quindi possiamo indossarle tranquillamente senza essere fuori moda spero che questo video vi sia piaciuto se volete date un'occhiata ad altri due video simili in particolare al mio video sulle tendenze moda in generale della stagione che è andato e sta andando fortissimo a livello di visualizzazioni segno che tutte abbiamo voglia un po' di novità nel nostro guardaroba e naturalmente iscrivetevi al canale accendendo anche la campanella per non perdervi i video futuri e con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao